La sicurezza, quando si organizza un evento pubblico all'aperto, richiede una sinergia fra tutti i soggetti coinvolti, ma in particolar modo fra le forze di sicurezza pubblica, ovvero le forze dell'ordine e le forze di sicurezza privata. C'è poi la sicurezza nei locali notturni, che normativamente può essere migliorata grazie anche a un modello che a Ferrara si applica da tempo. Il tema della sicurezza sarà al centro di un convegno che si terrà in città lunedì 30 ottobre, a partire dalle 10 nella Sala Estinse. E a parlare di safety and security ci sarà il numero uno della Polizia di Stato, il prefetto Franco Gabrielli. Al convegno inoltre prenderanno parte diversi relatori, molti dei quali di spessore nazionale, come l'avvocato Atilio Pecor, esperto in legislazione per il pubblico spettacolo e l'esperto di antiterrorismo e professore della LUIS, Alessandro Orsini. Un convegno voluto in particolar modo dal questore della città di Ferrara. Nel corso del convegno abbiamo in animo di toccare vari argomenti che riguardano la safety e la security, vari aspetti, ma sicuramente al fondo di tutto c'è l'esigenza di una sinergia. Tra le varie componenti pubbliche che si occupano della sicurezza e tra queste componenti pubbliche e quelle private. Perché se questa sinergia non dovesse esserci o se non dovesse funzionare al meglio, i problemi potrebbero esserci. Agli eventi si aggiunge la sicurezza nei locali notturni. Ferrara da tempo ha adottato un modello di comportamento che stabilisce i ruoli che deve avere la sicurezza pubblica e anche quelli che può avere quella privata, sempre più indispensabile soprattutto nei locali da ballo. Un modello che presto potrebbe avere anche una valenza nazionale. Qui abbiamo cominciato ad affrontare l'argomento relativo alla costituzione di un regolamento d'uso per l'accesso alle discoteche. Un po' come avviene negli stadi dove determinati oggetti non possono entrare, determinati comportamenti non si possono tenere. Negli stadi questo ormai esiste da anni ed è pacifico. Nelle discoteche dovrà avvenire e abbiamo già un importante accordo fatto a livello ministeriale che noi a Ferrara anche prima avevamo cominciato a studiare. All'incontro parteciperanno tutte le istituzioni locali, i parlamentari ferrarese, il ministro del governo Dario Franceschini. Per l'occasione inoltre saranno celebrati due momenti importanti della Polizia di Stato. I 70 anni della stradale che sarà in piazza con l'auto di servizio Lamborghini e i 110 anni della Polizia Ferroviaria. Per questo partecipare all'evento importante sottolinea lo stesso questore che fa un invito a tutta la cittadinanza. È un invito importante perché in particolare le amministrazioni pubbliche e i comuni, in una provincia come quella di Ferrara ma in genere, devono sapere che lavoriamo tutti insieme per la sicurezza e che gli eventi che normalmente vengono fatti, sono stati fatti, devono continuare a farsi perché non vogliamo assolutamente lanciare un messaggio di paura che possa impedire, ostacolare la realizzazione delle manifestazioni, il tipo culturale, gli spettacoli. Gli eventi che così belli da tanti anni, da sempre, si svolgono in questa provincia devono continuare a farsi con delle regole diverse, con una sinergia meglio articolata e per la serenità di tutti. Grazie a tutti.